Ciao a tutti in questa settimana piena piena ricca di novità di tutte le salse come potete vedere anche alle spalle ma il video alle spalle uscirà domani quindi come sempre seguiteci alle 14 sul canale fabbio e nonno link per la fumetteria trani via ragazze 99 17 inoltre stanno iniziando ad uscire le cose della fiera tutti i posto le notizie gli ospiti gli eventi il programma perciò restate aggiornate anche su fiera super trani l'unica fiera a trani secondo livello vai gol detto questo ci saranno un sacco di tornei fino a sabato perché poi questa settimana domenica lunedì e martedì saremmo chiusi e riapriremo forse con tante altre novità per il 16 agosto penso più 17 problemi dei giorni salve sta pubblicando tutti gli eventi anche quelli di settembre perciò risate aggiornati sui nostri social che cosa dire iniziamo perché tanta roba si aveva bene dobbiamo fare l'altro un po di ritollo c'è il super starlo diciamo anche il numero uno e poi l'ho visto un'altra cosa meno dopo limbo allora aspetta limbo lavo che te citto per gli over 40 penso che lo sappiano tutti cos'è il limbo ah ma guarda guarda divina commedia tra noi ne chi stampa questo è il buon il buon mauriffio che salutiamo un mondo distorce abbiamo si borrando come ritrati vabbè one piece come sempre o l'amico saverio che salutiamo quest'anno ci ha salutato il fantacalcio però la fumetteria lo farò lo stesso organizzato dallo staff e siamo già in dieci persone c'è livello il numero giusto per fare il fantacalcio blue exorcist 28 che ha due wigglet in testa e art ghia numero 4 l'ultimo allora ogni volta dice che no non è che finisce e no mostra in pari mostra in pari che finito mostra in pari e art ghia numero 4 uguale poi poi a tantissime novità il tunnel summer off summer il tunnel numero 4 poi the third king della planet manga il re dei cervi cerva primavera disse uno poi savoirs i guardiani de will il coyote e il telefono andiamo in pausa poi what about tomorrow dico a proposito di domani cotezuko yamamoto famosissimo poi vabbè arretrato e che i x yaku il numero 4 e che i fori a che i fori a che i fori a cui la chiave per gli altri penso siano nomi penso che sia proprio la chiave del c'è ci sta in realtà però non pensavo che era nuova perché domani c'è mai togliere venti al ritardo togliere venti al ritardo purtroppo da dire venti dove aspettare settimana dopo questo mese frittata buon pizzo tanti blu bianchi la blu è tornata tutta disponibile dall 1 al 100 5 105 oh nico risci ciao kira kira mannaggia kira ma io mi rotto un rigorosi vero si va bene come si no mai errore mio superstar e the crimson record frugniani il tunnel carpale con il libro il romanzo il tunnel carpaccia batman questo è numero 2 si all'inferno e ritorno pure l'amico evanghelion per gli amici si sono andati sandua di 2 dragon ball 3 o santecchia fortissimo stefano the tunnel summer rendering non è vero non c'entra niente vero c'entra con sammer perché però exit of goodbye ultramarine ma secondo me c'entra c'entra tutto il ultramarino ma guarda o bellissimo fra non lo so forse non c'è bobo bobo corto maltesi corto maltesi l'avevo l'avevo notato giù era enorme era corto maltesi altre novità altre novità a riadre in blu sky abbiamo anche la novità dello stesso san bernardo abbiamo tutte e due novità di ah ecco perché sembra uguale ecco perché sembra lo stesso c'è sembra lei il numero 21 questo è grosso jiu jitsu e poi c'è i cavalli dello zadego 5 dell'host canvas invece l'altro è bloccato se è bloccato la regola è bloccato a gente 00 il numero 20 novità ma no però in fare così comunque così agli spazi e se togli questo lo metti su una sedia ancora più spazio così porti avanti le novità ok ok lo facciamo così esatto lì yes man dubbi stravdato vabbè ma quello è nuovo e ho capito devo passare la mamma c'è la mamma di suiù questo è tutto uguale mazzuna mazzuano a me in realtà è nato bene se sta al 20 considera che samuraiti sto chiuso al 5 cioè avevano le aspettative numero 11 di spessi e frutti porca miseria sembrano i nuovi dei figli draghi celesti ah è vero è vero è vero ne sono arrivati ben due secondo me qualcuno in più giù 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 la seconda fila ah io zaccura fammi lì perché è diventata una copertina è bella la copertina rende che a friend e sei gold e poi altri legge uno e poi spy e gg allora questo è un cartone molto simile ragami no ragami 26 anno non è presentato proprio già non esce mai rileggere che poi è direggere tutto per leggermi volti volume nuovo ed è veramente che scade e se ogni 450 codi aspect femmini prova supera il giù giù 0 per ora sta pari però poi se usciranno gli altri sei fuori a bellissimo 31 mori arti 19 novità si poi abbiamo un paio di arretrati no mau e nuovo per ma quando ma? che cosa sei? fortissimo belli p society di pampan si è vero c'è pampania oggi pampan ripetelo pampan e ripetelo vedi quanta roba batto ai robin lazarus led numero 2 Thanos che sarebbe Thor Thanos che sarebbe Thor persi nel nonno spazio lazarus led 3 robin bellissimo e il 3 di Miles Morales e poi altri amici sembra camisola fisse quella lì è vero e si vede davvero e no ho detto molto più belle delle varianti alex rosso è gacuglia pure numero 20 pure i Yemahiro salve Gigant S02 Windbreaker, vabbè pover casino, Black Clover Tu non leggo niente di tutto ciò che è uscito Black Clover Solo Spy Che c'è ancora? Windbreaker Questo è uscito due volte No, no, l'ho compreso lì prima per vedere se usciva la varia Ah, solo quello? Sì Ah, ma l'hai proprio letto? No, no, sì Perciò hai paura che... No, no, devi finire con tutti i mali Cosa, finisco tutti i mali? Sì, sì Capisava E poi non la varia, mi dà fastidio Ma non la voglio comprare Eh, lo so, non la voglio comprare Altri caguya Sì, che cosa? Sì Sì E poi li devo comprare, va la vera Andate un lock Andate un lock Bellissimo Buon lavoro recuperato Non morto ma sfortunato Eh, secondo me Black Clover è passato dalle copertine della Matrioska A queste copertine Pampania Dov'anni franzo sei tu? La Fiss Society Citrus Ciao Leo Citrus Plus Numero nuovo Sì Poi, poi Si finite le novità No, non sono finite Ah, ok, andiamo un po' su... Sono marbles Ah, ok, ok Perciò tutte le novità La maggior parte delle novità le abbiamo qua Qua Vediamo che c'è, Matrioska Sì Sì, questo qua Ah, ok, ok Eh no, ho detto Marbles Batman numero 24 Batman numero 77 Schiavi e padro, sì Però avete... Un altro Lazarus Injustice Bomba Ok, Among Us 4 Bella La guerra dei cacciatori d'Italie Interessante Star Wars Del mondo di Star Wars Molto interessante Anche Ansole e Chewbacca Superman Ciubbacca L'uomo e il super uomo Knight City Catwoman Spawn numero 5 Cosa? Come l'hanno scritto? Ah no, è Knight City dorata Sì Bellissimo In Italia Iron Man Capitan Marvel Per l'amico Angelo Ciao Angelo Eh sì, non è arrivato Ah Ora è arrivato? E' un padre Daredevil Attano Poi abbiamo un po' Vibra Sì, però ragazzi Anzio Calmatevi Stiamo scrivendo tutti sui gruppi Si Mi vuole Fortissimo Anzio Quattro Gioca l'uomo che ride Che non ride Che ha smesso di ride Swamp Fink Swamp Fink Per l'amico Insuccio X-Force 33 Per l'amico Ciccio Ciao Ciccio L'uomo e il super uomo L'uomo primo che era un eroe Batto la flash La spilla Ma c'è la spilla? Capita America Che non ho capito ancora chi arriva Perché Swamp Fink Joker Il padre Divisi Oh bello Anzio 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 e poi i manga ah tutto bleach la parte finale per l'amico Sergiolone si Centro Mario Attack on Titan Slam Dunk che viene a mare e non saluta Slam Dunk Slam Dunk Sakura Saku numero 3 tutti arretrati molto molto interessanti Lulo bellissimo questo figo come thriller Boruto numero 3 Michael Jackson figoissimo Ishida ha due volumi dalla fine Anzai se no è stata 4 si e lui è il buono cattivo I am Mario Miro Ragnarok spettacolo Kamisama ma spostare questi e mettere di più qua no giusto perché è iniziato a diventare pesante oh gli esordi Urasawa Vasquats One Punch Man del Clover novitato qui a casa vaga buon duro un gatto ma infatti pure io il gatto che pensavo ah si è il gatto il gatto arancione ok no il 21 questa è quella del 2 21 e niente a posto eh ci vediamo domani ragazzi una visione bella voglio